Allora, brevemente, cosa è successo domenica pomeriggio? Allora, domenica pomeriggio alle 17.30, mio figlio stava percorrendo via Papiria quando una macchina ha urtato dalla parte posteriore mio figlio e praticamente lui è stato sbalzato al lato della strada. Ha colpito la spalla, il ginocchio, l'avambraccio, ha riportato delle escoriazioni più ha battuto anche la testa, fortunatamente indossava il casco e si è salvato. Sono a richiedere a questa persona che non si è fermata a soccorrere mio figlio di presentarsi alle forze dell'ordine, vigili, polizia, carabinieri un atto di coraggio, di responsabilità di modo che dare esempio a tutte le persone siccome succedono molte volte questi incidenti, di far vedere qual è il comportamento da ottenere. Il ragazzo era in bicicletta e l'auto era di un colore grigio, non sapete bene che auto fosse? Sì, mio figlio era in bicicletta e lui ha visto il colore dell'auto che è un grigio chiaro ha anche individuato all'incirca il modello dell'auto adesso con la polizia che si è adoperata ad aiutarci stiamo facendo delle ricerche e si spera di riuscire ad ottenere qualcosa. Il ragazzo come sta? Il ragazzo fortunatamente sta bene, il pronto soccorso gli ha dato sei giorni di prognosi ha iniziato l'attività scolastica come se niente fosse, però è rimasto scioccato.